Bari, ma secondo te è ciò forte, Goku o Superman? Goku, cioè magari proprio immediatamente. Bari, Superman. Ma a me sembra abbastanza ovvio che sia Goku più forte, cioè storicamente si è abbastanza sempre sovvio. Bari, ma Superman vola, spara il reggio di laser. Bari, che lui è Super Saiyan? Non so se ora tu ti ha visto My Dragon Ball. Ma che cazzo ha fatto? Bari, in 150 puntate si è trasformato in Super Saiyan e ci ha fatto così. Bari, Superman è un film, ha ammazzato tutto. Bari, Freezer. Vabbè comunque... Comunque a questo posto facevano un festival bello. not95. peak acceleration. Come Quentin. Comean, favourite! Comean, Uibh, comean. Ohhhh! Comean, secondo me. Comean! ma sapete ma che cosa fare... ma che cosa fare? colpito papo ma che fai? ma che cosa fare? ma che cosa fare? se io mi capisco non mi fa ma che cazzo fai dire cobia? ma che cosa fare? ma che cosa fare? ma sapete, non è cosa fare? vedi mi chiamare ma che cazzo sta fanno questo scotch? Vestia ma che sta facendo? Ma che sta facendo? Ma che sta facendo? Non lo sapete, non è cos'altro. Allora devi inghiare le mani, che cazzo sta facendo su scotch? Allora devi ingliare le mani, che cazzo sta facendo? Allora devi ingliare le mani, che cazzo sta facendo? Vabbè? 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 Ma che cazzo sta facendo? Vabbè? Andiamo a curcare! Andiamo a me! Andiamo a me! E effettivamente c'è sonnetto! male davammi lui male ma che cazzo è stato sto scruscio qua ma io avevo solamente voglia di dormire grazie a tutti